Grazie a tutti. Prima di presentare lo Speleo Club qui rappresentato da questi ragazzi e ragazze, voglio salutare il presidente Matteo Turci. Grazie. Presidente, buonasera. Chiedo scusa alla Cesira perché il rosso gli dà un po' fastidio. Credevo che bastasse la storia di Romagna. Va là che me è rosso, un Pisa, manna con i rosso. Guarda qua, quanto rosso c'è. Speleo, cosa hai portato? Una bellissima maglietta e il nostro motto. Della Cesira? Anche volendo. Il tuo futuro Cesira è sotto te. Ho piacere, te l'hanno regalato a te intanto, te l'hanno dato a te. Va so, va so. Grazie. Va so che ti arriva, va so. Grazie. Perché lo Speleo Club sono persone che vanno volentieri sottoterra per ritornare sopra. Il più bello è tornare fuori. Da quanto tempo esiste lo Speleo Club? Dal 1969. Esistiamo nel Forlives. Allora, diciamo che tu sei qui con i tuoi ragazzi per far vedere una barella che è quella di pronto soccorso. Sì esatto, con queste barelle portiamo fuori i feriti dalle droghe, diciamo. Quelli che si sono trovati in difficoltà. In barella per il soccorso al pieno speleologico. Tu però hai inventato insieme ai tuoi amici un'altra funzione di questa barella. Esatto. Visto che a noi ci piace andare sotto terra abbiamo voluto anche far condividere questa passione dei ragazzi più sfortunati di noi e i disabili e quindi facciamo puntualmente, annualmente, delle attività con loro e le trasportiamo su queste barelle perché non potrebbero... Ecco, si vedono le immagini, due gemelli. Sono due gemelli, sì. Giotto. Giotto e Giulio. E Giulio. Che sono di Bertinoro. Che li salutiamo. Li salutiamo perché adesso sono via fuori, non sono potuti venire, l'anno scorso li abbiamo fate vedere, sono stati con voi già in grotta. L'hanno già fatto due anni questa esperienza, quest'anno il 16 giugno le riportiamo con il progetto Diversamente Speleo a Frassassi, a vedere le grotte Frassassi, non quelle turistiche ma bensì quelle da speleologi, sì esatto. Loro devono stare stesi. Loro stanno stesi purtroppo perché sono infermi. E voi gli fate passare questa barella sulle ginocchia con difficoltà perché abbiamo le immagini, facciamo vedere. Succederà anche quest'anno questo miracolo di solidarietà. Loro vogliono andarci ancora. Loro assieme a tanti ragazzi che vogliono provare questa esperienza, non siamo a disposizione. Allora diciamo che noi di Barella qui ne abbiamo una e non abbiamo bisogno di un'altra. Esatto, è messo un po' malino. Il problema è questo. Esatto, infatti siamo qui apposta per... Quanto costa una barella di soccorso Speleo Club? Allora, Speleo Club, ma diciamo per il soccorso alpino-speleologico costa 2.000 euro. 2.000 euro. Ebbene, vuoi che noi non troviamo 2.000 euro? Lo chiediamo. Noi però non vorremmo tante... Se vengono le abbiamo. Però basta poco. Noi abbiamo un'iniziativa che lanciamo, state bene attenti, oggi è il 2 maggio. Il 10 maggio... Presso la parrocchia di San Paolo, sempre qui a Forlì, venerdì 10 maggio, facciamo una raccolta fondi, una cena di beneficenza e tutto il ricavato andrà per acquistare una barella nuova. Si mangerà soprattutto bruschetta? Della bruschetta, sì, abbiamo tante bruschette. A volontà? A volontà, a birra, a fanta, a coca... Quanto facciamo pagare, lo diciamo? Possiamo di 10 euro, che è pochissimo, sì. Però, visto che c'è la crisi, bisogna andare incontro un po' tutti. 10 euro, vi invito a venire tutti venerdì, lì c'è bruschetta per tutti, se siamo in 200, 2.000 euro li abbiamo già fatti. Perfetto. Voglio salutare, mi fai un primo piano su quello lì che ha gli occhiali? Lo chiamano spaventa pepistrelli, perché nelle grotte quando ci va lui, che è un amico da sempre... Esatto, sì, siamo amici da tantissimo, quindi... Bene, è uno dei meglio, via. Dobbiamo dire qualcosa, salutiamo Giotto e Giulio. Un arrivederci il 16 giugno a Frasassi. Esatto. E il 10 maggio alla parrocchia di San Paolo, bruschettata, via Pistocchi a Forlì. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti, grazie. E adesso. Ciao, ciao. Gilberto Zambelli, il nostro amico che salutiamo, che non è solo Piadine e Crescioni, ma è anche Pasta Fresca, vi facciamo vedere due immagini, intanto che io vado a consolare la mia amica e moglie Cesira.